Buongiorno da Edo, breaking news, breaking news, fermi tutti, non è successo niente, abbiamo sbagliato, quello che è successo ieri, oggi è mercoledì 22 novembre, quello che abbiamo raccontato ieri in questa emissione radio-televisiva non è vero, ignoratelo, Samuel Altman non è più l'ex CEO di OpenAI, ma è di nuovo CEO di OpenAI, apparentemente, insieme al ritorno anche del presidente Greg Brockman e suo co-founder, quindi tutte le mosse di questo weekend sono state ripristinate, no, non è vero ovviamente, è vero che Samuel Altman è di nuovo, non in via ufficiale però si tratta di sistemare alcuni dettagli, ma da tutte le fonti insomma pare essere confermato, Samuel Altman è di nuovo CEO di OpenAI e il board precedente, quello che di fatto lo ha defenestrato, in pratica viene smantellato quasi del tutto, a eccezione di una persona, ci sono nuovi board members e arriveranno degli altri cambiamenti nei prossimi giorni, cioè arriveranno, il board si riciccerà ancora un po' di persone vicine apparentemente a chi ci mette i soldi in questa compagnia, che nella fattispecie è Microsoft, quindi anche tutto quello che raccontavamo sul fatto che Microsoft abbia e avesse apparentemente poco potere nelle decisioni della non-profit OpenAI, apparentemente non è così vero, Microsoft ha effettivamente il potere, se è vero quello che molte fonti raccontano, cioè che questa mossa, questa restaurazione è in gran parte dovuta alle pressioni di Microsoft stessa. Allora facciamo così, dopo la mia bella sigletta andiamo con ordine, ricostruiamo cosa è successo, perché effettivamente questo fatto, questo avvenimento, questo ritorno, questo grande ritorno di Sam Altman è probabilmente ancora più sconvolgente della notizia del weekend, quindi della sua dipartita, quindi direi che andiamo a vedere che diavolo sta succedendo. Allora, ed eccoci qua con The Verge che apre così ovviamente, breaking, Sam Altman ritorna come CEO di OpenAI. Allora andiamo un po' a vedere, dice Sam Altman tornerà come CEO di OpenAI e anche l'ex presidente Greg Brockman, che naturalmente si era dimesso dopo la cacciata di Sam Altman, tornerà, tornerà anche lui. Allora, la compagnia ha twittato ieri, quindi proprio ieri sera tardi, che c'è stato questo agreement, questo accordo per far tornare Altman con un nuovo board. Poi dopo vedremo in realtà che cos'è e da chi è composto questo nuovo board. Allora, dice The Verge, le persone che sono familiari con questo accordo, con questo negoziato, dicono che il lavoro di questa nuova board, questa nuova piccola board, poi vedremo appunto da chi è composta, sarà quello di creare una board più grande, più espansa fino a nove membri apparentemente, che resetteranno la governance di OpenAI. Microsoft, che ricordiamo ha investito più di 10 miliardi di dollari in questa compagnia, vuole una sedia, vuole un posto in questa board e la vuole anche Altman stesso. Satenadella ha detto appunto che non vuole più sorprese, come ci si aspettava. E quello che si sa, quello che sa The Verge, entrambe le parti di questa contesa hanno raggiunto un accordo e inoltre vogliono portare avanti un'investigazione su quello che è successo. Perché naturalmente ancora, come dicevo ieri, ancora non si sanno davvero le motivazioni concrete dietro al licenziamento di Altman. Si era parlato appunto di comunicazioni non trasparenti, non oneste tra Altman e il board, però in concreto che cosa sia non si è mai saputo, non si sa. E quindi verrà condotta un'investigazione apparentemente da qualcuno di terze parti, insomma di indipendente. E apparentemente dice, aggiunge The Verge, che quello che è successo parrebbe essere da riportare a una lotta di potere interna alla compagnia, che forse ancora non si è spenta del tutto. Poi insomma ci sono i tweet festosi di Sam Altman e di un radioso Satya Nadella che nonostante la compagnia Microsoft abbia perso un pochino di credibilità e anche un pochino di soldi in questi giorni. Insomma ha apparentemente rimesso le cose a posto, ecco. E poi c'è questo meraviglioso tweet di Ellen Toner che è uno dei membri del precedente board che aveva cacciato Altman e adesso non fa più parte di questo board, ecco, che twitta e adesso possiamo finalmente dormire un pochino. Tanto sul dormire poi dopo ci torneremo perché c'è una notizietta, chicchetta interessante anche su questo. Ebbene, quindi che si dice? Si dice che OpenAI ha praticamente cambiato tre CEO in tre giorni perché siamo passati da Altman a Miramurati, poi a Emmet Shear e nuovamente a Sam Altman, insomma. E poi che appunto Emmet Shear, quindi questo CEO a Interim, a un certo punto, probabilmente capendo che c'era una cosa di molto strano, ha minacciato di andarsene lui stesso, di dare le dimensioni, a meno che non venissero fuori dei documenti seri, delle spiegazioni serie che la board, delle motivazioni che la board ha avuto per cacciare, per licenziare Altman. Apparentemente queste motivazioni non sono arrivate. Ma vado invece su un articolo di Foro4Media, per chi sta guardando tra l'altro questa è l'immagine che ho usato anche io nella copertina di ieri, questo è Sam Altman che mostra il badge da ospite, da guest nel palazzo, eccolo qua, nel palazzo, negli uffici di OpenAI, con questa facciotta che twittava, questa è la prima e ultima volta che mi vedete entrare qua con un badge da guest, insomma. Va bene, questa nota simpatica. Allora, il nuovo board, ci dice Foro4, il nuovo board di OpenAI è composto da queste personcine. Una è Larry Summers, che è un ex segretario del tesoro degli Stati Uniti, poi rimane Adam D'Angelo, che è il CEO di Quora, quindi apparentemente Adam D'Angelo in realtà non era, era nella squadra Altman, era nel team Altman Adam D'Angelo, quindi rimane, rimane in rappresentanza del vecchio board apparentemente, e poi c'è Brett Taylor, che è il ex co-CEO di Salesforce, ed è uno dei creatori di Google Maps, ed è anche ex CTO di Facebook, quindi insomma persone di un certo livello, potremmo dire. Dice Foro4 che naturalmente D'Angelo è l'unico membro del board che è rimasto in questa transizione, e quindi apparentemente questo è interessante perché i due non più membri del board, Tasha McCauley e Helen Toner, avevano rapporti, facevano parte di questa corrente filosofica che avevo citato anche ieri, di questo effective altruism, questo altruismo efficace, che spinge per un uso della scienza e della tecnologia che benefici tutta l'umanità, e quindi è spaventata dagli usi nefasti, apocalittici, delle AI apparentemente. Quindi c'è da un lato un po' una sensazione che questo potrebbe essere da ricondursi a motivazioni etiche, in qualche modo, ma potrebbero anche essere effettivamente, come poi hanno detto alcuni, una questione semplicemente di potere, di lotte di potere interne. E Satenadella quindi, nella gioia dei suoi tweet, ha chiuso con il fatto che ora spera che OpenAI sia più stabile. La stabilità è qualcosa che interessa molto. Tra l'altro non è ancora chiaro che fine farà Sutzkever, Ilya Sutzkever, che anche lui era membro del board, ex membro del board, che è apparentemente quello che più ha spinto per il licenziamento di Altman, che era quello che avevamo detto era più preoccupato dagli usi non etici dell'AI, ancora non è chiaro che fine farà. Perché poi lui aveva twittato, abbiamo detto anche ieri, di essersi pentito delle sue azioni, della sua complicità con le azioni del board, e quindi non so se questo pentimento tardivo gli può far mantenere il suo posto in OpenAI. E beh, questo è quello che sappiamo finora. Perché in intro ho parlato di socialismo? Perché non so quello di cui parlo, però naturalmente questo mi pare, mi pare un segnale che nel capitalistico mondo della Silicon Valley, ecco, in realtà i mezzi di produzione sono nelle mani dei dipendenti, perché tutto questo succede dopo la minaccia di una fuoriuscita di dimissioni in massa da parte di tutti i dipendenti, quasi tutti i dipendenti, di OpenAI stessa. Quindi è una rivolta proprio proletaria, parliamo di proletari, gente che guadagna decine di migliaia di dollari, probabilmente centinaia di migliaia di dollari l'anno, ma insomma, vedete che delle volte unirsi in un sindacato può fare... Basta, Edo, queste cose qua, non mischiamo questioni politiche che poi non so come uscirne fuori. Passiamo alla prossima, va. Allora, rimango nell'intorno della vicenda OpenAI, ma per segnalare una cosetta che è passata un po' sotto traccia, in realtà, cioè che subito dopo aver licenziato il suo CEO Sam Altman, il board di OpenAI ha provato a contattare uno dei suoi più forti rivali, più forti competitor, che è Antropic, questa start-up sempre di San Francisco, fondata e capitanata da due italo-americani, che sono Dario Amodei e Daniela Amodei, fratello e sorella. Dario Amodei è il CEO della compagnia e Daniela è la presidente. Antropic sono quelli che hanno creato Claude, questa specie di rivale, in pratica, di CHGPT, e questa compagnia Antropic è stata fondata da fuoriusciti da OpenAI nel 2020, che poi avevano fondato appunto Antropic nel 2021. Allora, con questo articolo di Ars Technica andiamo un po' a vedere che cosa è successo, perché secondo appunto quanto riportato, tra l'altro riportato da The Information, qui Ars Technica sta riportando delle informazioni date da The Information e confermate anche da Reuters, il board, ormai ex board di OpenAI, aveva provato a contattare il CEO di Antropic chiedendogli una fusione delle due compagnie e offrendo a Dario Amodei il ruolo che era di Semalcman, quindi di CEO di questa nuova compagnia nata dalla fusione. Ebbene Amodei ha rifiutato improvvisamente, cioè in modo abbastanza repentino, questa offerta, senza che si arrivasse poi a discutere dei dettagli, insomma. Quindi qua è quello che è successo ed è abbastanza confermato appunto. Quindi poi si va a raccontare un po' il percorso di Amodei che ha lavorato per OpenAI per quasi quattro anni e poi ha cofondato Antropic nel 2021. Era parte di questo gruppo che lasciò OpenAI nel 2020 per lanciare Antropic pensando, avendo la paura che la compagnia si stesse muovendo troppo velocemente sul lato commerciale e questo, insomma, è un po' il discorso che abbiamo visto in questi giorni, no? Quindi probabilmente l'arma con cui OpenAI è andata a parlare con Amodei è proprio quella del cambio di direzione della nuova compagnia che sarebbe nata dopo l'addio di Sam Altman, no? Una compagnia più focalizzata sulla ricerca e sui benefici all'umanità che questa AI dovrebbe portare ecco in meno al lato commerciale. E poi si va un po' a parlare di Antropic perché effettivamente di Antropic se ne parla poco, no? Un pochino meno, molto meno diciamo rispetto a OpenAI però in realtà è abbastanza interessante non solo perché i due fondatori sono appunto itano-americani con nomi italiani insomma ci fa anche piacere, no? Delle volte ma anche perché appunto è un player abbastanza importante e gli investimenti di Amazon e di Google lo testimoniano e testimoniano anche il fatto che dopo questo terremoto in OpenAI molti clienti di OpenAI stessa hanno provato a contattare Antropic per valutare di passare appunto al competitor nel loro, come fornitore di servizi AI e infatti dice un altro report di The Information più di 100 clienti di OpenAI hanno contattato Antropic in questo weekend e addirittura AWS ha creato un team dedicato per lavorare con Antropic e rispondere appunto a questo potenziale ecco esodo comunque alle domande dei clienti di OpenAI e tra l'altro AWS e Antropic avevano discusso di come lanciare di come provare a convincere ecco clienti di OpenAI a passare a loro a passare da Antropic e tra questi clienti si citano Snap Morgan Stalley e un trading firm di Wall Street che si chiama Jane Street e si insinna anche che le due compagnie stavano mettendo della pressione ai clienti di OpenAI per muoversi velocemente probabilmente pensando che la cosa si sarebbe risolta in pochi giorni poi si parla appunto degli investimenti di Amazon e Google ci sono 4 miliardi di investimenti da Amazon in una collaborazione con Antropic e ci sono 2 miliardi di investimenti di Google in Antropic e poi in conclusione c'è un report di Business Insider che parla di come molti fondatori di startup hanno appunto riferito a Business Insider che stavano considerando di passare a un modello open source like come quello di Lama quindi quello di Lama di Meta Lama 2 il modello di Meta oppure quello di Antropic appunto che si chiama Cloud e tra l'altro alcuni hanno detto anche di stare considerando che stavano considerando l'idea di passare ai cloud provider Google e Amazon quindi AWS al posto di Microsoft quindi di Azure quindi capite quanto la situazione sarebbe stata devastante sia per OpenAI che per Microsoft stesso che apparentemente avrebbe perso un po' di clienti e per aggiungere una nota frizzante a questa vicenda quello che ieri era ex presidente di OpenAI e che oggi è tornato o sembra star per tornare in OpenAI che è Greg Brockman ha twittato praticamente sponsorizzando pubblicizzando una nuova feature di CiaGBT che è un prodotto di OpenAI però nel momento in cui lui non era coinvolto in OpenAI quindi forse un tweet preprogrammato non lo so ma comunque il tweet riguarda questa feature CiaGBT Voice che è praticamente un text to speech insomma CiaGBT ha registrato sample di doppiatori professionisti ha creato vari stili in queste voci poi usando appunto la rete neurale ha fatto sì che voi possiate far leggere il testo voi chiunque anche gli utenti free ed è questa la nuova feature che è stata rilasciata fate leggere il vostro testo a CiaGBT quindi potete sentirlo potete sentire CiaGBT parlare ecco con uno stile che vi aggrada e quindi questa è una nuova cosa che appunto OpenAI ha introdotto ieri e Greg Brockman ha twittato provate cari utenti free di CiaGBT questa nuova feature che ora cambierà la vostra esperienza in CiaGBT stesso questa cosa un po' strana visto che lui non era più parte o lui sapeva già cose che noi abbiamo saputo solo ore dopo oppure era un tweet pre-registrato oppure semplicemente stava trollando o che ne so magari è talmente affezionato al prodotto da pubblicizzarlo anche quando non è più parte della compagnia chi lo sa comunque così ve la volevo ve la volevo dire perché a me ha fatto sorridere infine ma sempre legandoci a OpenAI perché alla fine è la cosa che ci interessa in questi giorni c'è una notizia molto croccante che ha rilanciato foro for media che è una delle mie fonti preferite ultimamente che è questo fatto che riguarda sempre un italiano stavolta proprio italiano 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 non italiano americano che è Matteo Franceschetti che se n'è andato in California quindi a San Francisco e ha fondato questa compagnia che si chiama Eight Sleep questa questa Eight Sleep fa dei materassi smart non so non so come altro definirli sono dei materassi con dei sensori delle cose che analizzano la qualità del sonno insomma si fondamentalmente questo analizza la qualità del sonno ti danno dei dei tracker puoi vedere come hai dormito quello che un po' si può fare con uno smartwatch o con altri dispositivi simili ma loro fanno un intero materasso tra l'altro un materasso abbastanza costoso che è un materasso che costa 2295 dollari e si chiama The Pod bene che è successo che Matteo Franceschetti ha twittato ha twittato ieri l'altro ieri in realtà lunedì il 20 novembre su quello che era successo questo weekend ha twittato che il dramma di OpenAI è reale perché ha controllato i dati del sonno del sonno di San Francisco e ha visto che sia stato un decremento pazzesco un peggioramento della qualità del sonno in questo weekend c'è stato un incremento del 27% di persone che hanno dormito meno di 5 ore quelle notti quindi una cosa gravissima che dobbiamo assolutamente fixare ora questo ci fa capire due cose innanzitutto che questo The Pod è un materasso che ha una privacy policy in terms of service e che i dati che sono che gli utenti mandano che vengono appunto collezionati da Hateslip possono essere usati per altre cose lo dice anche il terms of service possono essere usati per analisi interna della compagnia per essere condivise con terze parti e apparentemente anche per scrivere tweet virali o provare a scrivere tweet virali insomma poi c'è un po' di descrizione su che cos'è The Pod quindi è qualcosa in più di un'analisi del sonno fa anche un raffreddamento e riscaldamento intelligente quindi ecco perché costa un pochetto e poi ti dà anche una sleep fitness score basato sulla qualità del sonno sulla routine su quanto hai dormito e insomma però l'altra cosa che segnala è che probabilmente Franceschetti pensa che tutta San Francisco abbia comprato i suoi materassi da 2300 dollari in realtà no ovviamente quindi quello che lui ha rilevato forse è apparentemente che chi ha comprato un materasso da 2295 dollari ha dormito poco e non sappiamo quanti hanno comprato ma insomma si sta riferendo a una piccola porzione della popolazione di San Francisco probabilmente molto piccola e non all'intero San Francisco e questo volevo anche che si ragionasse un attimo sul fatto che i dati che noi passiamo ai device cosiddetti smart in realtà poi vanno a finire sotto gli occhi di qualcuno certo anonimizzati ma sappiamo benissimo se non lo sapete informatevi sembra un complottista insomma informatevi sull'internet che ci sono vari studi che descrivono come sia facile delle volte far risalire dei dati anonimizzati a un utente reale facendo un po' di incroci se ne parlava anche sui browser ma va bene non voglio tediare comunque è possibile è possibile farlo se non è possibile farlo comunque i dati possono essere usati in modi che non vi aspettavate ecco e quindi anche pensare sempre un attimino a quali dati condividiamo con le compagnie fa sempre piacere e comunque al CEO Matteo Franceschetti che non era nel mio radar e ora ci entrerà insomma occhio a questi tweet un pochino non furbissimi mettiamola così quindi attenzione attenzione anche se è stato apparentemente visto da 2.8 milioni di persone però non so se facciano il bene o il male della compagnia a livello di marketing non lo so insomma abbiamo chiuso anche questa puntata con questa breaking news del ritorno di Altman abbiamo parlato sempre di OpenAI quindi monografica anche oggi di fatto monotematica monotematica anche oggi su OpenAI però con qualche chicchetta frizzante no? va bene io direi che ho finito grazie per avermi seguito continuate a farlo continuate a farlo su YouTube su Spotify su altri client di podcast che usate non mi interessa basta che lo fate scrivetemi se volete dirmi qualcosa potete scrivermi su LinkedIn oppure su YouTube dove vi pare anche su Mastodon basta ho detto tutto ci vediamo al prossimo buongiornissimo fate bravi e dormite bene ciao 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 Grazie a tutti.